Approderà domani in Consiglio Comunale ad Ortona la mozione presentata dal capogruppo del PD Tommaso Coletti a sostegno del deposito di GPL che la Walter Tosto Serbatoi di Chieti ha intenzione di realizzare. La struttura, che di competenza comunale vedrà esclusivamente il permesso a costruire, si sviluppa in sette serbatoi tumulati per 28.000 metri cubi di gas. L'area individuata è compresa tra il Molo Nord e la Diga Foranea, inserita nelle grandi direttrici di transito e commercializzazione di prodotti strategici nazionali. Coletti rimarca la valenza economica e sociale dell'opera sul territorio ortonese, l'opera che costerà complessivamente 50 milioni di euro, produrrà circa 120 posti di lavoro. Questo progetto si è attuato, comporterà un aumento dell'occupazione di circa 100 unità, molti fissi nell'impianto e altri nell'indotto, nel trasporto in modo particolare. La proposta è stata fatta prima di mettere in cantiere la richiesta di autorizzazione alle varie autorità competenti, per dire agli enti interessati, manifestatemi l'interesse, tant'è che il Comune di Ortona, che non avrebbe competenza autorizzativa sul porto, però può manifestare l'interesse ad avere un impianto di questo genere. Nessuna preoccupazione, quindi solo la possibilità di ampliare l'offerta occupazionale, ad un'azienda che è il leader a livello mondiale, la presenza di Walter Tosto sul porto di Ortona, che già c'è per altre ragioni, sicuramente offrirà la possibilità ad altri ortonesi di impiegarsi in questa azienda che è il leader a livello mondiale. L'unica cosa che abbiamo chiesto a Walter Tosto è di tenere in considerazione che il porto di Ortona appartiene sia alla regione Abruzzo, forse all'Italia intera, però deve servire per implementare l'offerta occupazionale sul territorio del nostro Comune.